Un'altra tragedia della strada colpisce la provincia di Messina. Purtroppo non ce l'ha fatta l'ottantunenne orlandino che il 15 luglio scorso era stato ricoverato all'ospedale Papardo di Messina dopo un incidente stradale avvenuto in via Cordovena a Capodorlando. L'uomo Giuseppe Bruno, ricoverato in prognosi riservata nel nosocomio messinese dopo sette giorni di agonia, si è spento nella tarda mattinata di sabato. L'anziano, la mattina del 15 luglio, mentre era a bordo della sua bicicletta era caduto rovinosamente a terra, a quanto pare dopo uno scontro con un'auto che in quel momento stava parcheggiando. Il ciclista era stato soccorso dai sanitari del 118 e condotto al pronto soccorso di Sant'Agata di Militello. Le sue condizioni erano apparse sin da subito gravissime a causa di un'emorragia cerebrale e di altri traumi e per questo dopo averlo stabilizzato i medici avevano disposto per lui il trasferimento d'urgenza in elisoccorso proprio al papardo di Messina. Sul posto era intervenuta la polizia municipale di Capodorlando per tutti i rilievi e gli accertamenti di rito. I vigili urbani hanno acquisito anche i video delle telecamere di video sorveglianza di alcuni locali ubicati proprio nelle vicinanze. La scomparsa di Giuseppe Bruno, appuntato dei carabinieri in pensione, ha rattristato una intera comunità. Abitava nel quartiere residenziale di Santa Lucia, a pochi passi da quella via cordovena dove è avvenuto l'incidente. Sul sinistro era stato aperto un dossier dalla procura della Repubblica di Patti con a capo delle indagini il pubblico ministero Alessandro Lia. Vedremo adesso come andrà a finire.